... ... ... ... ... ... ... Carol dove dovevamo trovarci? Sì! Qui dove? Sotto le notte o a me! E a che ora? Alle 8. Sono le 8 e mezza, se siamo sotto le mie torri non si vedono. Vabbè, proviamo a chiamarli! Io il numero! Cancellato! Andiamo da qualche parte, andiamo al calcio intanto e poi vediamo. Ok, vediamo anche da rosarosa. Facciamo il calcio a rosarosa e poi andiamo là. Dai, andiamo! Vittorio, allora con Isabella come va? Allora, basta l'ho lasciata. Sì, lasciata. È un certo Stefano, non finisce niente. Ma chi dai? È un Giandone e poi gioca a basso. È un fisico della Madonna. Ma... Dove siete stati ieri sera? All'Osteria dei Poeti? Io preferisco l'Osteria dei Poeti. Ah, è vero, dove ci sono appesite giornate a subito. È l'atmosfera. Oh, ma ragazzi, la Marianina lì si respira veramente a Bologna. Sì, ma allora sai cosa ti dico? Andiamo tutti all'Osteria dei Poeti. Sì, ciao! Dai Deborah, vogliamo sentirti cantare. Lei? Ma tu stai scherzando. Mi sono andato ad una campana. No, guarda, io mi metto a cantare solo se lui si mette a suonare. Sì, dai, Giacomo che suona il piano. Ma l'avete mai sussito? È un disastro. Ragazzi, se voi lo fate, io vado in giro col piattino. Io ci vado. No, non ho avuto un cammino. No, non ho avuto un cammino, vai. Perchè partito in meantici? It's easy if you try. No hell, bello, us! Above us, only sky. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ok, ci vediamo tra un po', ciao Oh ma non sapete la storia di Paolo? E chi? Con sicchiere di medicina? Ma non si è presentato la laurea? Si è preso tutti i trend Non ha dato neanche un esame E dov'è finito? È scappato È andato all'ombra All'ombra? A fare cosa all'ombra? Il lavapiatti Ciao Che fate adesso? Ci siamo giù per locali Dove andiamo? Baraonda, Linco o Baraccano? Un ricordo mai lontano Nella nebbia forse tu Stendo forte il mio sorriso Attraverso gli anni miei Mi avvicino nel silenzio E nel dubbio morirei Allora cosa fai quest'estate? Ragazzi vado due mesi in Irlanda In Irlanda? Ma davvero? Che storia? Stai via tutta l'estate per cui Due mesi Pensate di sentire la sua mancanza quest'estate? Io resisto qui? Sì, anch'io Ma dai, stiamo scherzando Ma dai, stiamo scherzando Ma dai, stiamo scherzando Io vado via a Conerica Andiamo via insieme Abbene ci sono farci una vacanza insieme Sì, ma dove? Andiamo in Irlanda Vogliamo fare 20 giorni di volontariato in Irlanda Sì, ma dove? Chi è che la organizza, la cosa? Una di Bologna Chiediamo, poi facciamo sapere Vedi, ottimo Dai, Mozart, facci sentire un po' di musica Pronti dai, datemi una mano Fa che sia un rastro di fuoco Fa che sia un diamante nel vuoto Fa che sia un lampo letale Al mio stato uguale Alla sua egità Fa che sia un rastro di fuoco Cosa importa se è finita Cosa importa se è stata bruciata O no Ciò che importa che sia stata Una splendida giornata O no Una splendida giornata Stavisciata, stravissuta, senza tregua Una splendida giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti